Roma, Roma, Roma Cosa rappresenta per la stampa estera un giornale unico al mondo come romanista? Siamo molto contenti di aver ospitato qui il direttore del romanista, qui da noi in sede della stampa estera anche perché io non conosco nessun altro quotidiano nel mondo che è dedicato unicamente a una squadra di calcio io credo sia una cosa molto particolare perché sono contento che vi abbiamo avuto qui come ospite e so anche che molti fra i nostri soci del stampa estera sono tifosi accadenti dalla Roma quindi poi visto che siamo qui a Roma naturalmente un buon rapporto c'è